Tante volte siamo andati con le multe, stavolta portiamo i ricorsi. Allora qualche tempo fa ho incontrato il sindaco e mi ha detto che sulla scrivania aveva neanche 10 ricorsi. Adesso dovrà aspettarne qualcuno in più perché stiamo procedendo tutti. Si sono dati appuntamento sotto le finestre del sindaco Schiesaro i cittadini in lotta contro le multe dei Velox lungo la strada del Santo. 16.000 quelle che sarebbero già state pagate ma in totale le sanzioni staccate sarebbero vicine all'80.000 secondo alcune stime. Un'iniziativa nata così spiega Ambra D'Alan. In tempi non sospetti questa nostra amica multata aveva preso appuntamento con il sindaco quindi quasi due mesi fa. Così con l'occasione abbiamo detto ti accompagniamo vediamo se otteniamo qualche risposta. E invece nulla questa mattina l'appuntamento è stato rimandato a lunedì che lunedì è il 2 ottobre, venerdì è il 29 e scadono i termini per fare i ricorsi quindi non so se è casuale la cosa. Entro venerdì i multati devono presentare i loro ricorsi. Ambra oggi si è rivolta al giudice di pace. È stato depositato abbiamo dovuto pagare 46 euro per quattro multe se ne arriveranno altre dovremo fare altri ricorsi e pagare nuovamente perché anche questo c'è da dire che le multe non arrivano nemmeno in ordine. Sono in ritardo alcune arrivano alcune no quindi abbiamo aspettato anche per averle tutte e invece niente. Anch'io ho aspettato per tanto tempo che le multe venissero annullate. No, sono scaduti i termini per il giudice di pace e lo farò al prefetto. Franca che di multe ne ha prese sei racconta. Io dopo la terza sono andata dai vigili e ho detto ma cosa sta succedendo perché ancora io abito in provincia di Treviso. Io ero là, c'erano altre persone, accanto a me c'era una signora giovane con tre bambini che piangeva, piangeva davanti ai vigili, quei tre bambini. Aveva un pacco di multe, erano in parte sua e in parte di suo marito e lei ha detto io non riesco a pagarle, non ce la faccio. Una protesta che non si ferma ma la tensione tra i multati cresce. Adesso veramente è anche un po' difficile gestirli perché non sappiamo neanche noi più cosa dire, anche perché noi che gestiamo il gruppo siamo persone multate, non siamo niente di che, sentiamo veramente la rabbia aumentare e siamo anche un po' preoccupati.